Un saluto a tutti voi miei cari amici dei social del canale YouTube Fiorpodico 65 Aguila Scoop e tutti quelli che hanno a cuore il nostro progetto editoriale Fiorpodico 65 Aguila Scoop. Oggi parliamo di Maria De Filippi, che fa una intervista shock al Corriere della Sera e dopo tante indiscrezioni, tante illazioni, finalmente ci dice la bomba, vale a dire la notizia bomba che c'era su un possibile suo passaggio al canale Discovery, Discovery Warner Boss, vale a dire sul 9. Vediamo come sono andate le cose e che cosa ci dice Maria De Filippi. Queen Mary, Mary Queen, chiamatela come volete, insomma la regina della televisione italiana. Era il 2016, era il 2016 e Discovery, statunitensi, quindi dagli Stati Uniti, decidono di investire in maniera importante e onerosa in Italia. Decidono di fare un grosso investimento in Italia. E tra l'altro bisognava trovare gli artisti per promuovere questo investimento. Quindi il primo nome che ha fatto Discovery, prima che ancora facesse la società Warner Boss fatta nel 2019, quindi le due multinazionali americane si sono unite, si sono fuse per investire in Italia nel 2019, ma nel 2016 c'era ancora Discovery, la quale, possiamo dire, avendo investito in Italia, cercava i cavalieri per promuovere, o le regine per promuovere questo investimento. Il primo contatto fu con Maria De Filippi Discovery, quindi contattò Maria De Filippi e gli fece per otto anni fa, che erano già soldi, una proposta shock, 300 milioni di euro, 300 milioni di euro a Maria De Filippi, che avrebbe dovuto lasciare MESET portare, portare quindi sul 9 tutti i suoi format, vale a dire Uomini e Donne, C'è posta per te, Tusiche Valles, Amici e Temptation Island, e altri format che eventualmente avrebbero curato insieme la fascino PGT, la società di Maria De Filippi, che non è solo sua, a questo punto diciamo anche la verità, non è anche sua, dal 2016 ha il 50% insieme a MESET, quindi alla famiglia Berlusconi, il 50% è di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, poi è venuto meno Maurizio Costanzo, è rimasto il figlio Gabriele Costanzo, quindi parliamo dal 2017 in poi. Dopo questa offerta bomba che gli fa Discovery, 300 milioni di euro per portare i suoi format sul 9, quindi avrebbero fatto un canale immaginare, un canale tematico solo con i programmi di Maria De Filippi, molto evidente avrebbe fatto qualche altro format e quindi avrebbero riempito tutto il palinsesto, avremmo visto dalla mattina alla sera o lei a condurre o chi per lei. Quindi un'offerta bomba, 300 milioni di euro, non si sa per quanti anni, non si sa per quanti anni. Lei giustamente, giustamente credo, ha detto no, perché? Lei dice per amore di Silvio Berlusconi che vi è voluto a MESET eccetera, invece gli abbiamo fatto i conti in tasca e quindi restando a MESET guadagna addirittura, immaginate, molto di più di quanto gli ha offerto Discovery e se lei e chiunque fosse nella posizione di Maria De Filippi non si sarebbe mai mosso da MESET per andare, oltre altro che amore per Silvio Berlusconi, sarebbe mai mosso per andare in un canale a rischio che stava per nascere, per nascere in maniera importante diciamo in 9, da lì a poco ci sarebbe stata la fusione tra Warner Bros e Discovery quindi con maggiori investimenti in Italia, tanto è vero che stanno ripartendo da Amadeus, quindi che non ha niente a che vedere con Maria De Filippi. Nel 2016, dopo questa offerta bomba che gli fa Discovery, cosa fa Silvio Berlusconi? Non per Silvio Berlusconi, ma Silvio Berlusconi chiede a Maria De Filippi di comprare il 50% della sua società, dell'Efascino PGT, la società che produce tutti i canali di Maria De Filippi, quindi chiede a Silvio Berlusconi di acquisire il 50%, però rimane amministratore unico la De Filippi stesso, vale a dire la società della De Filippi, amministratore unico Maria De Filippi e Gabriele Costanzo adesso, prima c'era Maurizio Costanzo, quindi quando hanno fatto l'accordo l'hanno fatto con Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Quindi dal 2017 in poi facciamo due conti in tasca a Maria De Filippi, perdendoci conto quanti soldi prende a mesi, quindi chiunque molto in mente ci sarebbe andato, forse, questa è un'ipotesi mia, ma con un futuro futuribile, invece qui ormai è la regina della televisione, anche Tempile Sionale di questi giorni sta facendo record su record, ma andiamo ai conti di Maria De Filippi, che è quello che a noi conta di più. Lei praticamente si sa che ha un contratto con Meset come artista da quasi 12 milioni di euro all'anno, solo come artista. Ha venduto i suoi format a Meset, teniamo conto che adesso i format sono al 50% tra la fascino PGT e Meset, quindi al 50%, prima era tutto fascino PGT. Dal 2017, dopo questa offerta a bomba fatta da Discovery a Maria De Filippi, ha pensato bene Silvio Belosconi, non per Silvio, Silvio Belosconi a tutelare Maria De Filippi, entrando nella società di Maria De Filippi, spero di essere stato chiaro. Quindi al 50% acquisisce, vende i format, quindi Meset acquisisce e la fascino vende, quindi per quasi 500 milioni di euro, quindi 12 milioni di euro all'anno Maria De Filippi. vende i format a Meset per 500 milioni di euro, in più prende il 5% su tutta la pubblicità che passa nei programmi della fascino PGT. E parliamo di, a questo punto non di milioni, ma di miliardi di euro che passa di pubblicità. Quindi, ricapitolando, e per essere chiaro, Discovery aveva offerto a Maria De Filippi per poter partire su un canale tematico solo con Maria De Filippi e poi aveva messo sicuramente qualche altra cosa, ma con la maggior parte dei suoi programmi in onda, quindi 300 milioni di euro nel 2016, ad oggi a Meset guadagna 12 milioni di euro per quanto riguarda il contratto d'artista, prende 500 milioni di euro da Meset per vendere i suoi format a Meset, quindi, e in più prende il 5% della pubblicità che passa in tutti i suoi programmi. Quindi parliamo di cifre a 7 numeri, a 8 zeri, a 9 zeri, mettete voi quanti zeri volete amici miei. Quindi è pazzesco quello che guadagna questa donna. E lei lo dice oggi, a distanza di un anno dalla morte, da più di un anno dalla morte di Silvio Berlusconi, soprattutto non c'è più Maurizio Costanzo, ha detto, io devo dire la verità, perché anche quest'anno, nel 2024, Discovery è tornato alla carica, è tornata con me, è tornata con Gerry Scotti, è tornata con Carlo Conti, è tornata con tutti, quindi perché Discovery ha bisogno di nomi. Per gli investimenti fatti non bastano Crozza, Amadeus e Fabio Fazio, c'è bisogno di altri nomi. Ma io non me la sono sentita nel 2016, per amore di Silvio Berlusconi, e oggi non lo farei mai, per amore della famiglia di Silvio Berlusconi. Pinocchietta, Pinocchietta, tu non lo fai, perché l'offerta che ti ha fatto i Discovery, anche se è mostruosa, fuori da ogni, siamo a livelli di target di Hollywood, quindi lei guadagna, più di un artista di Hollywood, lei all'anno guadagna, amici miei, più di un bravissimo attore di Hollywood, non so, gli ultimi, fatevo dei nomi, non so, Brad Pitt, George Clooney, eccetera, per l'altro lì, come si chiama, Nicolas Cage, quindi tra l'altro, quindi film che guadagnano milioni, non arrivano ai guadagni di Maria De Filippi, infatti è un caso, in tutta Europa, che una donna manager guadagni tanto. Amici miei, questo è il video di oggi, quindi nel 2016, rifiutai 300 milioni di euro, da Discovery, per amore di Silvio Berlusconi, questa è la bomba di Maria De Filippi. Amici miei, se hai preso il video, quindi un bel seguito su tutti i social, dobbiamo essere presenti su tutti i social, e sul canale YouTube, Filippo Poglio 65, Aguila Scoop, un like, i commenti, e la notifica, quindi, e la campanellina per avere la notifica, e come dico sempre amici miei, il motto è sempre quello, più siamo, meglio è, più grande, è la nostra cassa di risonanza, Viva Maria De Filippi. Vi voglio bene amici miei, alla prossima.